buongiorno a tutti e benvenuti da ps scrap nel tutorial di oggi vi spiegherò come realizzare dei segnalibri magnetici per farli ho utilizzato la vergata bianco e la martellata bianco brillante di carta in dispensa a cui ho abbinato l'asset scrap digitale mon prince di meme clou per prima cosa ho preso due pezzi di vergata bianco di 19 x 6 cm che ho piegato a 9,4 e 9,6 cm ho preparato poi quattro pezzi di carta scrap che misurano 9 x 5,5 cm e ho arrotondato gli angoli come mostrato in video buongiorno a tutti 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 Dopo aver incollato le carte scrap prendo le calamite da un millimetro e le incollo al centro del nostro segnalibro. Questa calamita verrà nascosta poi dalla decorazione scelta. Mentre la colla si asciuga incollo le altre decorazioni. Applico poi le cliparza più grandi per nascondere le calamite. Applico poi le cliparza più grandi per nascondere le calamite. Musica A questo punto posiziono l'altra calamita all'interno del segnalibro e applico una colla di Atac. Musica Ed ecco qui i vostri segnalibri magnetici pronti per essere utilizzati nei vostri libri preferiti. Musica Vi aspetto per altri video sul mio canale. A presto! Musica 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 Grazie a tutti.